amici del fai da te oggi andremo a vedere come sostituire il filo della testina del decespugliatore della ego power allora per prima cosa dobbiamo andare a spingere qui vedete che si sgancia proprio in corrispondenza di questo tasto che si schiaccia e poi schiacciamo anche qua io utilizzo il cacciavite si può fare anche con comunque con il pollice se non è troppo duro una volta che abbiamo tolto questa parte della testina che andiamo a riporre andremo a infilare il filo proprio qui dove ci sono i buchi tagliamo il filo più o meno a secondo di quanto vogliamo caricarne comunque consiglio più o meno un paio di metri prendiamo il capo del filo prendiamo uno dei buchi che troviamo qui nella testina lo infiliamo e vediamo che esce dall'altra parte esattamente nell'altra metà tiriamo il filo fino a farlo diventare pari andiamo ancora un po eccolo qua perfetto una volta che abbiamo fatto pari il filo a questo punto andiamo ad infilare un capo del filo in questo buco e lo estraiamo completamente e poi infiliamo l'altra parte del filo nell'altro buco molto semplice eccolo qua una volta che abbiamo messo in posizione la molla deve andare al centro la molla quindi chiudiamo rimettiamo il buco in corrispondenza dei due tasti e andiamo a teniamo fuori i fili e andiamo a schiacciare così con entrambe le mani eccolo qui avete entrato di qui ed è entrato anche di qui bene il lavoro è quasi finito a questo punto dovremmo prendere questa parte della testina tenerla ferma con una mano e con quest'altra schiacciare e girare in senso anti orario così si prende e si gira vedete se poi utilizzate tutte e due le mani una gira da una parte una gira dall'altra fate molta meno fatica io adesso ho utilizzato un 2.7 come filo se utilizzate un 2.5 un 2 fate ancora meno fatica comunque veramente un gioco da ragazze adesso non l'ho esattamente tagliato nella stessa misura darò un taglio qui ma il nostro decespuratore è pronto per lavorare io spero di esservi stato d'aiuto con questo video vi invito a mettere un bel pollice all'insù spolliciate iscrivetevi al canale al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.